Grazie 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 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10 3, 4, 6, 8, 10 3, 4, 6, 8, 10 4, 7, 10 3, 7, 10 4, 7, 11 4, 7, 11 5, 7, 11 Sì. Ora si, andiamo, via, forza, andiamo, su, via, andiamo, attacchiamo, bene, veloci in avanti, Va, e ora, andiamo, avanti, andiamo, su, via, andiamo, su, via, andiamo, su, via, andiamo, eccoci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.